Di calcio non voglio parlare perché per vincere partite del genere ci vogliono attributi, ci vuole carattere, ci vuole un altro tipo di cattiveria agonistica che noi non abbiamo, non capisco se ogni tanto la smarriamo, se forse non ce l'abbiamo mai, siamo fortunati quelle poche volte in cui la vediamo però bisogna essere onesti e oggettivi nel riconoscere che oggi, nonostante la cornice di pubblico sia stata splendida e quelli che sono mancati siamo noi, siamo tutti responsabili, io per primo e quindi adesso faremo ammenda e capiremo come comportarci non mi interessano neanche i risultati, adesso dovrei stare lì a dire che la prossima partita ci aspetta il Roma City che c'è di nuovo addosso siamo scivolati di una posizione in classifica, ma queste sono tutte cose che poi sapete di domenica in domenica in funzione dei risultati possono cambiare e il problema è che è l'approccio che non cambia e siccome siamo addirittura ad arrivo per il finale di stagione io l'avevo detto ai ragazzi prima della partita, poi è sempre la somma che fa il totale e quindi poi ognuno di noi farà le proprie riflessioni Come pensa di intervenire? Adesso c'è poco da intervenire, insomma, io sono stato molto chiaro sin dall'inizio, da quando ho rigettato le dimissioni dell'allenatore perché a 8-9 giornate dalla fine non credo assolutamente nei cambi di guida tecnica se non nella follia di uno scellerato che venga a mettere le mani in una situazione già di per sé complicata e poi ripeto, oggi come oggi in giro ci sono allenatori che sono stati esonerati da altre parti oppure altri che hanno preferito aspettare attendendo progetti più interessanti La nostra barchia adesso in un modo o in un altro deve arrivare in porto non so in che modo ci arriveremo ma arriveremo in porto e poi come ho già detto a fine corsa tireremo le conclusioni L'unica cosa certa è che il prossimo anno noi stiamo insieme almeno io con voi tutto il resto è un punto interrogativo Grazie a tutti Grazie a tutti